Napoli Eurofalsi, sgominata la banda, sono 24 le misure cautelarie eseguite dai carabinieri di Napoli e dal comando antifalsificazione monetaria. Disarticolato grazie alle intercettazioni, il gruppo criminale e i soldi rinvenuti in un basso al quartiere Vasto. Recuperato cadavere in mare, si indaga per omicidio sulla salma individuata da due pescatori a largo di torre annunziata, ferite alla testa e alle braccia compatibili con una violenta colluttazione. L'arma del delitto potrebbe essere un martello, la verità dall'autopsia. PD vince Ellie Schlein, cosa cambia in campagna? La nuova segretaria vince a Napoli, Casetta, Avellino, ma a livello regionale Bonaccini prende più voti. Salerno si conferma Roccaforte e De Lucchiana, mentre il sindaco Gaetano Manfredi rilancia il campo largo del centro-sinistra. Minaccia e Mastella, solidarietà bipartisan, attenzione a Benevento per le gravi intimidazioni sui social. Voltiamo pagina, siamo sereni, le parole del sindaco. Avviate le indagini, si segue la pista anarchica, attestazioni di vicinanza da tutti i gruppi politici. Avellino, lite sui rifiuti, Giuditta controllato, ancora alta, attenzione sulla gestione. Nell'ente d'ambito si consuma lo scontro tra D'Alessio e consiglieri di opposizione. Il sindaco di Summonte, caos totale, lo spezzatino favorirà i privati, secca smentita del presidente. Furbetti del cartellino, inchiesta in ospedale, il rugge di Salerno di nuovo nel mirino della procura per le presunte irregolarità nell'utilizzo dei beige. Le indagini dei NAS portano alla sospensione per un anno di due infermieri. L'azienda annuncia un'inchiesta interna. Buonasera, rieccoci con l'informazione regionale del canale 8 Channel TV. Apriamo subito con la cronaca, con la banda dei falsari, la banda che fabbricava soldi falsi. 24 misure cautelari, il colpo a Napoli, il quartier generale in un basso, in un quartiere popolare, a capo una donna. Sono stati sequestrati anche 500 mila euro. Vediamo. Un vero e proprio negozio, chiuso la domenica e nei festivi, è aperto dalle 12 alle 19.30, dove si stampavano e distribuivano banconote e documenti contraffatti. Scoperto dai carabinieri a Napoli, in un basso del vasto, il quartier generale di una banda di falsari, con a capo una donna. I militari hanno eseguito 24 misure cautelari, gli indagati, 9 in carcere, 10 ai domiciliari e 5 destinatari del divieto di dimora devono rispondere di associazione per delinquere finalizzata alla vendita e la messa in circolazione di banconote e in euro contraffatte. Intercettazioni, osservazioni, ma anche pedinamenti hanno consentito ai militari in poco più di un anno di disarticolare la strutturata organizzazione, che acquistava e vendeva valuta anche all'estero. Sequestrato il negozio e localizzati anche due depositi, dove erano nascosti in dei sacchi grandi quantitativi di denaro contraffatto e una vera e propria scuderia di motoveicoli, venivano utilizzati dai sodali per effettuare i prelievi di banconote ordinati dagli acquirenti, sigilli a circa 500 mila euro. Tra gli arrestati in flagranza di reato, anche due cittadini francesi beccati con 16 mila euro falsi. E adesso parliamo del mistero del cadavere ritrovato in mare a torre annunziata. Si ipotizza l'omicidio volontario sul corpo dell'uomo. Trovate ferite a testa e braccia. Vediamo. Omicidio volontario è l'ipotesi di reato sulla quale lavora la procura di torre annunziata dopo il ritrovamento di un cadavere in mare. La salma non è stata ancora identificata. Si tratterebbe di un uomo sui 35-40 anni dai tratti europei. A fare la macabra scoperta a largo della costa torrese sono stati due pescatori che hanno notato il cadavere con una corda annodata al collo. Il sospetto degli investigatori è che all'estremità della corda potesse esserci un grosso masso con l'obiettivo fallito di nascondere il cadavere negli abissi. L'ipotesi di omicidio volontario sulla quale lavora la procura di torre annunziata è dettata dal ritrovamento di ferite alla testa e alle braccia. Per il medico legale Antonio Sorrentino potrebbero trattarsi dei segni di una violenta colluttazione. Non è escluso che l'uomo sia stato colpito con un pesante oggetto contundente, forse un martello. A chiarire tutti i dubbi sarà comunque l'autopsia. La priorità è anche risalire all'identità della vittima. Gli unici elementi distintivi al momento sono due lettere tatuate sul polso sinistro. Non risultano intanto denunce di persone scomparse. Stando ai primi accertamenti esterni, tra la morte e il ritrovamento del corpo non sarebbero trascorse più di 24 ore. E adesso torniamo a parlare del caso della statua di Maradona realizzata da Sepe, donata al comune, piazzata davanti allo stadio e restituita all'artista. Proprio l'artista oggi ha parlato e annunciato che potrebbe avere una nuova casa quella statua, quella della bombonera del Boca in Argentina. Vediamo. Casa al nuovo a Fragola, Portici o Gragnano, forse un privato che fine farà la statua di Diego Armando Maradona. Dell'artista Domenico Sepe, installata e inaugurata davanti allo stadio di fuorigrotta, salvo poi essere rispedita al mittente dal comune di Napoli. La soluzione potrebbe essere di quelle clamorose in Argentina, Buenos Aires, ad impreziosire l'esterno dello stadio della squadra per il quale il Pip de Oro faceva il tifo. Il Boca Juniors, a svelarlo, è stato lo stesso artista nel corso di una conferenza stampa oggi, dopo che nei giorni scorsi il comune di Napoli ha reso noto di non poter accettare quel dono dal valore troppo oneroso, per essere acquisito senza passare per una gara, come ipotizza anche un'inchiesta aperta dalla procura. La statua sicuramente, se non rimarrà in un luogo iconico a Napoli, probabilmente, probabilmente, e dico probabilmente, potrebbe andare anche alla Bombonera, al Boca, perché non posso immaginare che il comune di Napoli possa sostanzialmente pensare ad un artista e trattarlo in questo modo. Qualsiasi cifra prenderà Domenico Sepe per questa statua, saranno devolute in beneficenza. Ho fatto Maradona perché Maradona era il nostro idolo, non l'ho fatto per farmi pubblicità. Domenico Sepe non ha bisogno di pubblicità, sono 30 anni che faccio scultura. Rispetto al rapporto con il comune di Napoli, Sepe ha riferito di aver chiesto un incontro con il sindaco Manfredi, ma ha detto di non essere mai stato accorto per un confronto. E adesso parliamo delle primarie del PD con la vittoria di Schlein, Napoli, Caserta, Vellino, Città. Ma intanto analizziamo anche quali sono i riflessi sul territorio campano. Ellie Schlein, 37 anni, vince le primarie ed M e diventa la prima donna segretaria del Partito Democratico. L'esito del voto le dà un vantaggio su Stefano Bonaccini, ampio ma non schiacciante, il 53-8 contro il 46,2%. Un rapporto inverso a quello dei circoli, dove aveva vinto di 20 punti il presidente dell'Emilia Romagna, sostenuto anche dal governatore De Luca, che per la prima volta ora si trova nell'ala minoritaria del partito. E tra l'altro, proprio sul terzo mandato di De Luca, si era consumato l'ultimo scontro tra i due candidati alla segreteria prima del voto. Il presidente Campano non ha voluto commentare i risultati, ma dal maschio Angioino, per la presentazione del libro di Giuseppe Benedetto, promossa dalla Fondazione Inaudi, il governatore incalzato risponde con i versi di Montale, che parlano di solitudine e mancanza di certezze. Non chiederci la parola, che squadri da ogni lato l'animo nostro informe, e a lettere di fuoco lo dichiari, e squadri da ogni lato l'animo nostro, mi sono buttato su Montale. Il voto delle primarie Demmi in campagna ha premiato Bonaccini, mentre la Schlein vince nelle città, in particolare a Napoli, dove aveva già vinto nei circoli, e a sorpresa anche a Caserta e Avellino. Tuttavia il ribaltone delle primarie fa saltare gli equilibri interni. Nel terzo polo c'è già chi lascia immaginare un'emorragia di moderati. Per questo, nel fare gli auguri alla giovane segretaria, il deputato Piero De Luca, che ha coordinato la mozione Bonaccini per il mezzogiorno, lancia un appello. Sarà decisivo fare ogni sforzo per mantenere unito il partito, nel rispetto della sua pluralità, dice De Luca, progressista, riformista, popolare, evitando il rischio di frantumazioni o divisioni. Adesso parliamo delle minacce sui social al sindaco di Benevento, a sua moglie. Si segue anche la pista degli anarchi. Ci vediamo. Voltiamo pagina sereni, circoscrivendo l'episodio ad un contesto nazionale che innegabilmente denota elementi preoccupanti di ritorno, che va arginato subito e da tutti. Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, interviene dopo il messaggio intimidatorio ricevuto ieri sulla sua pagina social ufficiale. Episodio ralvaglio degli investigatori della Digos della Questura che hanno avviato le indagini. Non è, infatti, escluso la possibile matrice anarchica. Anche perché la moglie del sindaco, la senatrice Sandra Leonardo, nei giorni scorsi aveva rinvenuto sulla parabrezza della sua auto un volantino anarchico. maggioranza è non solo al fianco del sindaco Mastella. Vincenzo Sguera di azione punta il dito contro gli autori del post. Dritti per la nostra strada. Invece il monito di consiglieri di maggioranza e assessori. La diversità di opinione ci può essere, la visione, la diversità di vedute politiche ci può essere, ma non va mai, ma mai alterata quella che è la democrazia, del principio della democrazia del nostro paese. Il sindaco è una delle persone in assoluto più democratiche che esiste come figura politica e quindi contestiamo fermamente questi comportamenti. Se lo conosco bene non reciderà un attimo dal suo impegno per la comunità, anzi questo sarà rafforzato e noi saremo al suo fianco, sicuramente non facendoci intimidire da chi usa metodi vigliacchi. Adesso la cronaca si indaga sulle cause che hanno portato alla morte del camionista 55enne Angelo Gambardella di Nocera Inferiore intorno alle 7 di ieri mattina all'uomo mentre percorreva con un tir il viadotto Marinella sulla 1 in Toscana ha perso il controllo del mezzo pesante in una curva. Ha prima urtato la barriera di sicurezza sul lato sinistro, poi sul destro, poi è precipitato per 20 metri giù dal viadotto. Gambardella è morto, imprigionato nella cabina di guida, sul posto la polstrada ai soccorsi, distrutta la scatola nera del mezzo, non si conoscono le cause dell'incidente. Potrebbe essersi trattato di un malore, un guasto meccanico, la perdita del controllo del tir per l'asfalto umido, tutte ipotesi. Gambardella lascia moglie e figlio, trasportava un carico di frutta e verdura. Un'altra inaccettabile tragedia accusa il sindacato con la Filt CGL. E adesso cambiamo argomento, andiamo a Pompei nel parco archeologico per scoprire la nuova sessione di scavi e i primi tesori che affiorano. Sono partiti nuovi scavi nel parco archeologico di Pompei, in un'area estesa per circa 3200 metri quadri, quasi un intero isolato della città antica, sepolta nel 79 d.C. dal Vesuvio. Il progetto vuole rettificare e risolvere i problemi idrogeologici e conservativi dei fronti di scavo, ovvero quel confine tra la parte scavata e quella inesplorata della città antica. Quest'ultima ammonta a circa 15 ettari di isolati e casi ancora sepolti sotto la Piglia e Cenere, quasi un terzo dell'abitato antico. È l'impostazione del nuovo scavo, ubicato nell'insula 10 della Regio Nona, che ha visto emergere tesori come la casa di Orione, la casa con giardino e il termopolium. In campo ci sono archeologi, archeobotanici, vulcanologi, numismatici, topografi antichi, oltre che architetti, ingegneri e geologi, perché scavare a Pompei è un'enorme responsabilità, dichiara il direttore del sito Gabriel J. Trigel. Lo scavo è un'operazione non ripetibile, spiega l'esperto. Quello che è scavato lo è per sempre, perciò bisogna documentare e analizzare bene ogni reperto. Lo scavo è ancora all'inizio, ma cominciano già ad affiorare le creste murarie dei piani superiori degli edifici antichi, tra cui una fullonica, una lavanderia e una casa con forno e cella superiore. Andiamo in Irpini a Clampartegno. Il pubblico ministero della DDA ha iniziato il processo di stamane precisando che a suo avviso l'ultimo teste, ascoltato precedentemente in udienza, sarebbe stato condizionato da minacce pressioni ricevute da personaggi vicini all'organizzazione criminale. Inoltre le difesi hanno chiesto di ascoltare i tre carabinieri indagati di falso ideologico, in atto pubblico, corruzione, abuso d'ufficio e violenza privata, come indagati in un procedimento connesso nel filone aste ok. Richieste rigettate dal presidente del Tribunale Scarlato, precisando che nel filone principale Clampartegno 2.0 sono stati già escussi e non risultano iscritti nel registro degli indagati. Il processo è stato rinviato al 13 marzo, quando continuerà l'escussione di altri testi citati dalle difese. Restiamo in Irpinia, a Torifiuti si consuma lo scontro tra il presidente D'Alessio e i consiglieri d'opposizione, Giuditta Attacca, siamo al caos totale. Sul riassetto dei rifiuti in provincia di Avellino si consuma lo scontro tutto interno all'ente d'ambito. I consiglieri di opposizione Giuditta, Pelosi, Mercogliano, Rossi e Della Marra sollevano grandi perplessità sulla gnuco pubblica che dovrà gestire il settore e sulla mossa del comune capoluogo di mettersi in proprio e chiedono al presidente D'Alessio che si passi attraverso l'assemblea dei sindaci per rigovernare il processo. Siamo al caos totale, tuona Giuditta, da una società che avevamo all'inizio, Irpinia Ambiente, ora ne abbiamo tre. La scadenza del 30 marzo è sempre più vicina e alleggia lo spettro del privato. Lato che fa un'altra società e poi senza coinvolgere i sindaci si chiederà ai sindaci di sottoscrivere quando riguarda le quote di partecipazione. E' un caos enorme, allora noi vogliamo riportare, considerando che il settore è strategico, è indispensabile e i cittadini stanno pagando le spese di questa confusione, noi abbiamo fatto una cosa semplicissima e chiederemo al lato di convocare l'assemblea dei sindaci. Mentre Giuditta, Pelosi e Mercogliano incontravano la stampa, nella stanza accanto si riuniva la maggioranza del consiglio d'ambito. D'Alessio, visibilmente infastidito, respinge tutte le accuse. Se non avessimo fatto tutte le procedure nei tempi rapidi che abbiamo avuto per costituire l'anognuco, sicuramente il privato era dietro l'angolo. Attendiamo entro la prima settimana di marzo la relazione, il parere della Corte dei Conti, credo che possa essere positivo perché rispetto a Caserta che ha avuto un parere negativo, noi stiamo avanti di molto. E adesso parliamo dei furbetti del cartellino, sono due infermieri che sono stati sospesi a Ruggi di Salerno, vediamo. A distanza di anni l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno torna nel mirino della magistratura e risuona nuovamente l'espressione furbetti del cartellino in corsia. All'epoca fu la guardia di finanza, ora tocca ai carabinieri del NAS contestare l'utilizzo improprio del badge da parte di alcuni dipendenti. Due infermieri, un uomo e una donna, sono stati sospesi su disposizione del GIP del Tribunale di Salerno per 12 mesi. L'accusa nei loro confronti è di truffa aggravata ai danni dello Stato e in osservanza delle norme sul lavoro nelle amministrazioni pubbliche. Le irregolarità riguardano gli orari di ingresso della donna che, secondo quanto ricostruito dai NAS, che hanno passato al setaccio i registri del marcatempo digitale, si sarebbe presentata in ospedale dopo l'orario di ingresso. Grazie alla complicità del collega inoltre, l'indagata in due giorni festivi non si è recata al lavoro, pur risultando regolarmente in servizio. Oltre l'indagine della procura di Salerno, anche la direzione generale dell'azienda ospedaliera universitaria ha avviato un'inchiesta interna. Accertamenti su due infermieri finiti nel merino della magistratura che rischiano altre sanzioni. Marruggi c'è anche un'altra emergenza in queste ore legata al pronto soccorso. Per i sindacati è tempo di adottare provvedimenti anti-caos risolutivi. C'è bisogno di riempire gli ospedali con le risorse umane. È stata fatta una grande operazione in questo periodo di stabilizzazione personale del comparto, c'è bisogno di fare nuovi concorsi, bisogna assumere medici perché questa è la grave carenza che abbiamo in questo periodo, il pronto soccorso del Ruggi è al collasso, c'è bisogno che le aziende si parlino tra di loro. E adesso parliamo del rilancio delle imprese, delle attività produttive, parliamo dei distretti commerciali. A Benevento la svolta è davvero vicina, vediamo perché. Continua Benevento il lavoro per sostenere il commercio e valorizzare in particolare le attività del centro. Nonostante il calo nel settore si registra in tutte le città campane, secondo un'indagine della Confo Commercio il capologo Sanite è tra quelli che tengono meglio. Il nostro intendo è di continuare su questo trend, cercare comunque di rivitalizzare sempre di più e in modo sempre più forte le attività commerciali presenti in città. peraltro si uniscono anche al fatto che comunque c'è un incremento dell'illotturismo in modo esponenziale, quasi insomma a raddoppiarsi. C'è il dato della disoccupazione che diminuisce Benevento e del Sani, insomma comunque dati importanti. E poi l'assessore Ambrosione fa il punto sui distretti commerciali. Dopo la definizione dell'accordo, ora è il momento della svolta. Abbiamo incontrato Confo Commercio non più tardi di qualche giorno fa insieme con il sindaco a Palazzo Mosti e quindi attendiamo che Camera di Commercio possa eventualmente formularci la sua adesione. Diversamente nel giro di pochissimo andremo a fare l'atto costitutivo perché ripeto abbiamo tutto pronto per poter definire l'atto costitutivo che poi ci consentirà di inviare alla Regione Campania l'iscrizione nell'albo dei distretti commerciali anche perché da giugno inizieranno i primi bandi per poter poi acquisire finanziamenti sia per gli enti ma anche per i soggetti in modo privato nell'ambito nel settore del commercio. Adesso parliamo di autonomia differenziata. Il governatore Vincenzo De Luca torna ad attaccare il governo al convegno promosso dalla Will a Napoli. Vediamo. A un campano arrivano 5.000 euro in meno rispetto a un cittadino del nord di spesa pubblica allargata. Il governatore Vincenzo De Luca torna a lanciare strali sull'autonomia differenziata intervenendo a un convegno organizzato a Napoli dalla Will chiedendo poi l'aiuto del segretario generale Pierpaolo Bombardieri per una ripresa di politica meridionalista. Bombardieri li lancia appellandosi al governo. Sull'autonomia non c'è mai stato un confronto con il governo così come non c'è stato sul PNRR nonostante gli impegni di tutti a confrontarsi con le parti sociali e sappiamo i ritardi che rischiamo di registrare sulle regioni e con i comuni. Due confronti iniziati, uno sulla sicurezza, dopo il primo tavolo non abbiamo più avuto notizie. Purtroppo le persone continuano a morire e noi chiediamo interventi che siano in grado di cambiare le cose. Gli fa eco il segretario regionale della Will. Abbiamo bisogno di unire il paese e siccome le diseguaglianze nella scuola e nella sanità sono già tante, ecco perché contrasteremo con tutta la nostra forza questo progetto di autonomia differenziata. De Luca non ha poi risparmiato stoccate a Roberto Speranza, ritenuto il peggior ministro della salute del paese, che non ha alzato un dito per affermare criteri di rigore quando bisognava fare il riparto del Fondo Sanitario Nazionale. E parlando di migrazione, il presidente della regione ha definito il governo nazionale la normale di Pisa delle fesserie. Ho provato un pugno nello stomaco vedendo le immagini dei migranti morti annegati, ha detto De Luca, ritenendo ipocrita il dolore del presidente del Consiglio, che dovrebbe salvare la vita di chi scappa dalle guerre. A Salerno intanto nuove iniziative per incentivare la raccolta differenziata. Arrivano le card e anche le primialità. Vediamo. A Salerno si moltiplicano le iniziative per aumentare la percentuale di raccolta differenziata. Dopo le campagne a Via Atene mesi scorsi, Salerno Pulita ha presentato la sua card di successo, una carta premi che garantirà diversi servizi all'utenza. Servirà ai cittadini per conferire in maniera corretta presso l'isola ecologica, consentirà ai cittadini di avere i sacchi per la raccolta della carta, le buste per la raccolta del multimateriale e le buste per la raccolta del non differenziabile. La tessera, che nei prossimi giorni sarà inviata alle famiglie salernitane, consentirà anche di ottenere delle premialità. In base alle quantità di materiale conferito presso i centri di raccolta, in base alla qualità del materiale conferito presso i centri di raccolta, si matureranno dei punti. Questi punti si cumulano anche a punti offerti dai negozi che si iscriveranno al circuito promo shop e alla fine si avrà la possibilità di raccogliere dei premi. Intanto Salerno sta continuando a far registrare numeri importanti in materia di differenziata, dopo aver raggiunto il 65% nel 2022. In questi primi mesi del 2023 la percentuale ha raggiunto il 70%. Ci sono tante iniziative che faranno in modo che la cittadinanza possa comprendere che tutti i sacrifici e tutti i buoni risultati, le buone pratiche che comportano un livello importante di raccolta differenziale hanno una ricaduta positiva. La ricaduta è quella di avere più servizi. E adesso andiamo in Valle Ufita, Grotta Minarda, dove è stato presentato un corso in scienze biologiche, un traguardo per il polo universitario erpino che lotta contro lo spopolamento delle aree interne. Ci racconta tutto Gianni Vigoroso. Sinergia tra Unisagno, Asle e Comune a Grotta Minarda nella lotta allo spopolamento delle aree interne. Cresce l'offerta formativa sul territorio in Erpinia. Ancora un traguardo importante e prestigioso per il polo universitario uffitano. La possibilità per i ragazzi che invece di andare a essere pendolari possono qui trovare una risposta in quanto c'è l'area, l'air come stazione, l'autostrada, la stazione Erpinia e noi che abbiamo messo a disposizione questa struttura, penso che invece di spendere soldi alle famiglie che oggi ne sono già accorto, noi diamo una possibilità di formazione in loco. L'Università di Stagno è presente da sempre nelle aree interne e con questa iniziativa vogliamo allargare il nostro territorio di riferimento, come diceva lei, per combattere un fenomeno che sta diventando anno per anno più preoccupante, quello della fuga dei giovani. Un corso di laurea in scienze biologiche dell'Unisanio, che è una delle facoltà più prestigiose d'Italia, significa finalmente il coronamento di tutti i desideri e i sogni della nostra cittadina per quanto riguarda la formazione, la cultura e la crescita formativa di grotta, grotta centrale, ancora una volta. Da parte mia è davvero tutto, grazie a Michele Urciolo in regia e buon proseguimento su 8 Channel TV. Grazie a tutti. Grazie a tutti.